buona visione ammettilo che sei rimasta a bocca aperta che velocità eh io potrei fare di meglio chiunque potrebbe scusate sto cercando la nave per venezia ci siete quasi amico avete fretta? forse no potete aiutarci a risolvere una disputa scommetto che il primo venuto è in grado di cavalcare più veloce del mio amico immagino parliate di me e se avete ragione che cosa faccio? magari una cavalcata gratuita datemi un cavallo no Oh no! Ma, altra cosa crede di Dio! Sono quelli che segui! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non potevano sopportare la sconfitta. Ben fatto, Messer. Chiamami Ezio. Mi resta un po' di tempo per quella cavalcata. Sarà un piacere, Ezio. Puoi chiamarmi Amelia. Nella corsa posso battere qualsiasi uomo. Dicono che siete una vera sfida per me. Non puoi stare qui. Battere. Giù, ora! Non puoi stare qui! Battere! Non puga giù, atta! Sai provare! Più veloci! Più veloci! Sta scappando! Più veloci! Più veloci! Più veloci! Più veloci! Boo! Il suo ruolo di sangue ci ha gettato nel terrore! Bisogna fermarlo! Ma che... ma che... Il consiglio ha saggiamente approvato la riapertura dei commerci con... Ho sentito che siete veloci, ma lo sono anch'io. Che ne dite di affrontarci in una breve gara? Ascoltate tutti! Finché non riceveremo... E' affascinante, perché non cammina e basta? 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 Non cammina e basta? E' affascinante, perché 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 non cammina e basta? Sì! Farai bene a sparire! Subito! Questo è il mio territorio. Posso battere chiunque qui, ma un uccellino mi ha detto che tu sei un vero duro. Puoi dimostrarlo? Quindi, sui. Sì! Dicare! Sì! Ci sono davvero, una volta che miro che si chiama. Ci sono davvero, la faccio che si chiama. Sì! L'argo che miro che stai rai. Sì! Mi piacere! L'argo! Mi piacere! Sì! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.